Cucini? Prendi. Va bene? Possessiamo 2 euro, già bonus. Eccolo! Porca buttana finito! Stronza! Pagato una volta sola! Pagato una volta. Tra un po' dovrebbe calare i 5 muni verdi. Questa è pagata 50, alla fine. E dopo il libro è finita, dovrebbe essere. Vabbè, poi spegne, eh? Come si trascetta? Ormai... Non basta che prendi...